Non serve dove serve, più che altro per cercare di entrare nella... nel climax Stiamo andando Ok Bene, siamo qua a Castelli di Sasso Stiamo girando il corto musicale di Fuglio, di Pasquale Muto è un brano che mi... a cui sono... al quale sono legato perché è un brano che conosco da... da anni e mi fa veramente piacere che Pasquale mi abbia chiamato per girare con lui il corto... questo corto musicale di una canzone di un testo che è veramente reputo un bellissimo testo ed è una bella canzone Io parto da... da Stiso poi RIM, siccome RIM metà già sto seguito Sì No, io resto, noi dobbiamo chiudere questa... questa... ripresa qui, questa inquadratura qui con... Ok PASQUALE 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 Sì, non è la mano delle gare, se è tuve. Cioè, io ce l'ho in mezzo tu vuoi. E c'è? Cioè, io ce l'ho in mezzo. Cioè, io ce l'ho in mezzo. Cioè, io ce l'ho in mezzo. 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 Canale lato sinistro. Prova canale lato destro. Prova di centro. Segnale in fase. Segnale in controfase. Questo annuncio è di verifica al precedente e deve essere udito come proveniente dall'ambiente senza un punto d'origine definito.